Torna la neve in Molise, attesa con una manna dagli operatori turistici per ridare slancio ad un comparto che di neve vive. Ed è di neve che il sito specializzato Meteo in Molise parla stilando previsioni a breve termine. Un piccolo movimento dell'alta pressione ad ovest favorirà lo scorrimento sul suo lato orientale di fredde correnti, fino a meno 8 gradi nelle medie quote. Tali correnti fredde provocheranno un minimo depressionario al suolo, sottovento sul tirreno meridionale e spostamento verso il Mar Ionio, fuori aereo di un peggioramento a carattere nevoso sulle nostre regioni centro-meridionali. In serata arrivo delle prime precipitazioni su tutto il Molise. La neve, inizialmente oltre 1.200 metri, calerà rapidamente a 700 metri, già dalle prime ore di domani. Le nevicate colpiranno tutto il territorio regionale, soprattutto il Matese. Temperature in forte calo anche di 12 gradi per la differenza tra i valori miti di queste ore e l'aria fredda in arrivo. E a 1.400 metri, quindi località come Capracotta e Campitello Matese, scenderanno fino a meno 6 gradi.